Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Termina la partita del... come si chiama quella del 12.30? Dell'ora di pranzo fra Chievo e Sampdoria. Terminata 0-0, pareggio. Cioè non sto neanche più di tanto a soffermarmi sulla partita perché onestamente è una partita che non ha niente da raccontare. Cioè mi sono rischiato ad addormentare per circa metà di essa. Però in qualsiasi caso ragazzi volevo parlare di altre due cose inerenti chiaramente alla partita però non appunto sul calcio giocato. Ecco, il primo è ovviamente il salutare un Pellissier, una bandiera, una delle ultime bandiere che oramai sono rimaste nel nostro calcio, nel calcio italiano. Pellissier che anche quest'anno si è dimostrato secondo me un giocatore fondamentale per lo spogliatoio, per l'ambiente, per anche la qualità che ha fatto vedere. C'è stata una fase della stagione in cui segnava solo lui nonostante l'età. Poi chiaramente è stato infortunato a una certa età per la quale il fisico non gli permette a volte anche di recuperare per essere al top qualche giornata dopo un infortunio. Però comunque è uno di quei giocatori che ci ha sempre messo il cuore in qualsiasi circostanza. Quest'anno è stato veramente difficile e dispiace un po' anche che chiuda la carriera con una retrocessione per il Chievo. Però ragazzi, comunque gli vanno fatti secondo me i complimenti. Anche oggi il Bentegodi ha fatto un'ovazione per lui alla sostituzione. Nel senso, cosa gli vuoi fare? È un giocatore che si è sempre comportato bene. È un giocatore veramente da cui bisognerebbe prendere esempio per tanti giovani, secondo me. Non tanto perché è rimasto al Chievo per moltissimi anni. Però sono scelte. Ma per comunque la voglia che ci ha sempre messo, la grinta che ci ha sempre messo, il cuore che ci ha sempre messo. E anche, come hai detto, in una situazione difficile come quella che ha affrontato il Chievo quest'anno, lui è sempre stato uno di quelli che si è esposto, di quelli che ci ha messo tutto. Ecco, mi ricordo quando si era presa conventura dicendo che appunto chi non credeva al progetto era giusto, che andasse via, chi non credeva nella salvezza era giusto che andasse via. Nonostante secondo me il Chievo fosse una squadra che qualitativamente si era già vista in estate, aveva perso tanto e non era una squadra da Serie A. E così poi si è dimostrata durante la stagione. La partita, ragazzi, era una partita che non serviva a niente perché il Chievo appunto era già retrocesso. Il Chievo che da quando è venuta la retrocessione sta testando anche dei giovani, è una cosa molto molto giusta, sta testando il Chievo del futuro per cercare di tornare subito in Serie A con qualche giovane come Vignato, un giocatore molto molto interessante, Makin, Leris, tanti giocatori che appunto devono cercare di riportare il Chievo l'anno prossimo in Serie A. E la Sampdoria invece è una squadra che da qualche giornata, da quando più o meno ha capito che la posizione di classifica era quella perché è troppo distante da quella dopo e troppo distante da quelle prima, ha deciso di smettere di giocare. Quello che critico alla Sampdoria non è tanto il fatto di oggi il pareggio, cioè sinceramente come ho detto non conta niente, però secondo me Giampaolo poteva cercare di fare, questa qua è la seconda tematica del video appunto, cercare di testare qualche giocatore, cioè onestamente oggi a parte Raffaele e Tavares erano tutti i titolari, praticamente adesso togliamo l'infortunio di Andersen, quindi giocava Ferrari, e Tonnelli non lo mette perché sennò hanno l'obbligo di riscatto, però per il resto erano tutti i titolari e sinceramente è una cosa un po' stupida secondo me, visto la situazione molto tranquilla in cui non devono fare assolutamente niente, poteva secondo me testare qualche giovane anche lì, perché comunque la Sampdoria è una di quelle squadre che lancia giocatori, lancia giocatori per poi portarli a grandi palcoscenici, Venito Herrera, Veli Skriniar, anche lo stesso Icardi anni fa era stato uno dei giovani lanciati proprio dalla Sampdoria, così come tantissimi altri, quindi sinceramente mi aspettavo e speravo che buttasse qualche giovane nella mischia proprio perché a parte non contava niente che potesse dare quella voglia in più, ma anche non necessariamente un giovane, però un giocatore che magari si è visto poco quest'anno, che non so un Viera, poteva provarlo a titolare, anche perché secondo me così rischi un po' di far sottovalutare i tuoi giocatori, cioè vedi Pratt, Pratt si parla di 25-30 milioni, sinceramente anche per quel che ha fatto vedere in queste ultime partite non è un giocatore da 25-30 milioni secondo me, io dirigente di grandi squadre non penserei a Pratt come una prima scelta, no? se devo migliorare il mio centrocampo, quindi sinceramente rischi un po' così di far svalutare i tuoi giocatori e come detto, potevi lanciare qualcuno, magari cazzarola, riuscivi a farlo anche esplodere in qualche giornata facendo vedere, vedi Vignato, che è un giocatore che sta, ha messo molte società, ha messo gli occhi su di lui, vedendolo come un giovane talento e potevi provare a fare una cosa del genere, ecco, quindi questa è una piccola critica per la Sampdoria, un saluto di nuovo a Pellissier, io ho detto questo, vi invito a mettere mi piace se volete altri video post partita delle partite dopo e vi invito a scrivermi nei commenti un po' cosa ne pensate di queste cose di cui vi ho parlato, se siete anche voi d'accordo con me per quel che riguarda la Sampdoria e vi invito infine ad iscrivervi al canale, per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, attualità calcistica, fantacalcio, qualsiasi cosa che accada nel mondo del calcio, detto questo, vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video!